ciao a tutti sono elisa e ho realizzato questo video per presentarmi e per contarvi quello che troverete all'interno del mio canale sono appassionata di cucito da tantissimi anni e da otto anni circa ad oggi ne ho fatto il mio lavoro ho deciso di condividere con voi tutto quello che ho imparato e tutto quello che devo ancora imparare perché comunque il mondo del cucito è talmente vasto talmente ampio che non si finisce proprio mai l'imparare c'è sempre 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 qualcosa di imparare credetemi nel mio canale troverete video dedicati a quelle persone che si avvicinano al mondo del cucito per la prima volta che vogliono imparare ad utilizzare la macchina a cucire che vogliono imparare a cucire poi troverete video inerenti a le riparazioni sartoriali dalle più semplici come loro del pantalone alle più complesse come l'accorciamento dalla manica di una giacca o la manica di un cappotto di una camicia insomma riparazioni più complesse e poi parleremo anche della confezione su misura chi non piacerebbe confezionarsi da sé il proprio guardaroba è una soddisfazione veramente pazzesca meravigliosa insomma troverete veramente di tutto nella confezione realizzeremo sia delle cosine semplici che potrebbero essere ad esempio un topo una gonnellina poi passeremo pian piano comunque a confezioni più complesse come l'abito foderato oppure una giacchettina una camicia troverete davvero tantissimo se non volete perdere nemmeno un video e rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al mio canale io vi ringrazio tantissimo per aver dedicato qualche minuto del vostro tempo per guardare il mio video un abbraccio e Libi